fratelli e sorelle ciao a tutti bentrovati benvenuti in questo nuovo video un saluto agli affezionati di youtube anche e soprattutto a marcello chirico e tutti i fratelli e sorelle juventinazi di topland ciao da parte del vostro postman allora oggi si è radunata la juventus quindi ufficialmente è iniziata la seconda parte della stagione che ci porterà al fattivico maggio o delle vittorie o dei disastri e dei fallimenti vedremo quello che succederà chiaramente il calcio si è fermato io personalmente ho staccato la spina perché mi dovevo preparare psicologicamente alla fase oramai finale della stagione la seconda parte della stagione perché tra campionato coppa italia champions league avremo quattro mesi di fuoco si è fermato il calcio ma non si sono fermati i proclami quelli che parlano talvolta e soprattutto il più delle volte molto spesso a sproposito io hanno parlato in tanti in questi giorni io me ne sono tranquillo sereno ho ascoltato ho ponderato ho scrischottato ho salvato perché poi quando sarà il momento certe robe le tireremo fuori e faremo il sunto di tutto quanto si è convenuto a taluni parlare o meno però io volevo in questo video portare alla vostra attenzione due in particolare due per tutti il primo è stato amsic che per il settimo anno consecutivo ha pensato bene di fare il suo proclama tricolore ecco da quelle parti sono molto attenti alla cabala e alle superstizioni sono molto scaravantici però evidentemente mare chiaro la lezione delle passate sei stagioni non l'ha imparata perché sappiamo tutti poi dopo i suoi proclami come è andata a finire no a maggio maggio successivo e poi e poi c'è stato zamparini zamparini che come sempre ha pensato bene di farla fuori dal vaso di parlare di dibale della juventus zamparini poche ore fa pochissime ore fa ha detto dibala a napoli sarebbe stato perfetto tra parentesi non avrebbe vinto nulla a napoli però sarebbe stato perfetto e poi ha detto zamparini è arrivato il momento che la juventus finisca di vincere ecco io non capisco questa credine che c'ha zamparini nei confronti della juventus di una società che per dibala ha sganciato 40 milioni di cucuzze ecco non è che non zamparini non è che dibala ce l'hai regalato no insomma la juve ti ha fatto fare una bella plus valenza con con la cocia ma ha detto questo quello che io voglio soltanto dire in questo video è che proprio alla luce di quello che ha detto zamparini ma di quello che stanno dicendo in tanti mai come in questo momento dobbiamo far valere il nostro motto ovvero vincere il settimo scudetto consecutivo non è importante ma è l'unica cosa che conta detto questo io vi saluto spero di farvi un altro video prima del post genua juve perché mi dovrebbero arrivare i miei ultimi acquisti bianconeri e li volevo condividere con voi per adesso vi saluto ciao a tutti e come sempre fino alla fine paura su e ripartiamo ciao marcello